Cosa risponde ai 99 posse e ai commenti che hanno lasciato su Facebook? Commenti inaccettabili, come è ovvio. Ogni violenza non costruisce nulla ed è totalmente da repudiare. Noi siamo molto preoccupati e totalmente contrari rispetto al concerto. Abbiamo già raffigurato questa preoccupazione e questa contrarietà agli organi preposti, la prefettura e questura, e porteremo presso il Comitato di Sicurezza esattamente queste preoccupazioni e queste contrarietà. Da parte nostra, per quanto ci riguarda, non rilasceremo nessuna autorizzazione. Abbiamo già detto che non verranno rinnovate le convenzioni e tutto il resto compete alla gestione delle istituzioni preposte all'ordine pubblico, con le quali noi siamo in stretto contatto e in stretta collaborazione, come sempre e come dimostrato anche sabato, lavorando al meglio giorno e notte e, se permettete, mettendo anche un po' a repentaglio noi stessi. La tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dipendono da istituzioni che non sono in questo caso il Comune. Con questa istituzione alle quali noi siamo strettamente legati e con le quali lavoriamo in stretto coordinamento, noi raffigureremo, come già detto, la preoccupazione massima e la contrarietà e nel Comitato di Sicurezza, poi, portando queste cose, vedremo quali saranno le decisioni che verranno assunte dagli organismi preposti. Voi eravate preoccupati anche per sabato? Voi eravate preoccupati anche per la manifestazione di sabato? Si potrebbero non evitare quegli scontri? È chiaro che eravamo preoccupati ed è per questo che abbiamo lavorato giorni e notte i giorni scorsi ed è per questo che abbiamo lavorato giorni e notte anche per rimettere immediatamente, per quanto possibile, a posto perché gli incidenti sono stati confinati ad un angolo della città. Ricordo che noi eravamo nella caserma della polizia quando è stata attaccata, io un assessore e il portavoce. Cioè noi abbiamo messo anche a repentaglio noi stessi. Ricordo anche, lo rimanifesto, la massima solidarietà nei confronti delle forze di polizia che hanno lavorato al meglio e in stretto contatto e in stretto coordinamento con noi. Voglio ricordare anche che non c'è per queste manifestazioni, perché questa è la legge, nessuna autorizzazione da dare. Può essere dato il diniego. Il diniego può essere dato dalla questura. La questura, se non dà il diniego, è per evidenti e ovvi motivi di ordine pubblico come esperienza consolidata da parte di questi organismi preposti all'ordine pubblico ha manifestato, ha rivelato in molte altre circostanze e in molte altre città. Grazie a tutti.